Ciao Cristina e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori di Radio Blog Australia. Saluti a tutti dall'Australia e grazie ancora a quanti ci seguono con dedizione e perseveranza. E che paroloni, basta dire un minimo di curiosità. Anche questa va bene, ma si sa, abbiamo bisogno di sostegno e suggerimenti per continuare a raccontare dell'Australia e della città dove viviamo. Giusto, allora, come ricapitoliamo la settimana? Estrapolando come al solito notizie qua e là. La sostituzione del premier di uno stato, ancora guai per il canguro volante, inizio delle finali del futbol australiano e per finire l'incubo in una prigione tailandese per uno scrittore australiano, purtroppo ancora là. E cosa ha fatto? Traffico di droga, pedofilia, cosa? Te lo dico dopo, andiamo con ordine. Anzitutto, il ben servito dato a Morissiemma, fino a qualche giorno fa, premier del New South Wales. Ora rimandato a casa dal suo partito, il partito laborista, è sostituito con un giovane politico rampante, Nathan Rees. Ecco, questa nessuno proprio se l'aspettava e senza nemmeno lezioni anticipate, scandali clamorosi, storie di sesso, niente. In effetti la faccenda è poco chiara. Ufficialmente la crisi è scoppiata perché il governo Jemma aveva deciso di privatizzare l'azienda elettrica dello Stato, mettendosi contro la stragrande maggioranza del suo partito, che essendo laborista preferisce che certi settori rimangano pubblici. Beh, pure lui, un premier della sinistra, seppure un panacquata, che prende decisioni di destra, mica siamo in Italia. Lascia perdere l'Italia che qui è diverso. Più realisticamente si pensa che molti del suo partito abbiano aspettato un passo falso di Jemma per dare una rinfrescatina ai meccanismi di potere all'interno del partito laborista, che ricordo governa ininterrottamente da 13 anni il New South Wales e negli ultimi 70 anni ha governato per ben 52 anni. E quando si governa così tanto capita anche di fare qualcosa di destra. È normale, dai, quasi come i comunisti a Bologna prima di Guazzaloca. Ancora, Saverio. Allora, passo subito alle finali del football australiano, uno sport che d'italiano non ha proprio niente. Non è vero, ce ne sono stati tanti e ce ne sono ancora tanti di giocatori d'origine italiana. Il più grande, Ron Barassi, che aveva i nonni italiani. E che ha aperto un famosissimo pub a Melbourne. Vabbè, l'entusiasmo per le finali del football è al solito grande, quasi esagerato, specie qui a Melbourne. Venerdì sera, Lothorn ha battuto i Bulldogs nettamente e si è quasi garantito un posto alla Grand Final, che si giocherà a fine mese, quando l'intera nazione si fermerà per guardare la finale davanti al barbecue. E se volete saperne di più, andate sul sito dell'Australian Football League www.afl.com.au e naturalmente potete recuperarlo anche dal nostro blog. Ehi, 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 anche Sydney ha vinto ieri e anche Hollywood, che è chiamata la Juventus del footy. Ma se il footy è entusiasma, altrettanto non si può dire per il canguro dei cieli, vale a dire la Qantas, che come compagnia aerea nazionale inizia un po' a preoccupare. Sono lontanissimi i tempi quando Dustin Hoffman, nel film Rain Man, chiedeva di viaggiare a Qantas perché era la compagnia più sicura e affidabile al mondo. Questa storia della compagnia aerea in crisi mi ricorda qualcosa che sta succedendo in Italia, o mi sbaglio? Taci! Anche questa settimana si è registrato un incidente a un volo in partenza, fumo in cabina. E da luglio, quando ciò è scoppiò una bombola di gas su un Boeing in volo dal Giappone verso Melbourne, i guai non si contano. Ritardi, voli cancellati, passeggeri accampati in aeroporto e le statistiche sono impietose. Solo il 62,8% dei voli Qantas decolla in orario e solo il 63,7% atterra in orario. Ecco, però, l'importante è che atterrino sempre e sulle ruote intatte dei carrelli. È vero, l'importante sono i ritorni. Ne sa qualcosa Harry Nicolaides, uno scrittore di Melbourne, insegnante universitario nonché blogger, vincitore di prestigiosi premi giornalistici, che è stato arrestato in Tellandia con l'accusa di lesa maestà. Nel suo libro, Verisimiltude, Verosimilianza, nato dall'esperienza di due anni trascorsi in Tellandia, compaiono infatti commenti molto duri nei confronti della monarchia tellandese, che per intenderci ha una tra le leggi di lesa maestà più severe al mondo. Ora rischia 15 anni di carcere. E allora mi chiedo, quanti ne dovrebbero dare di anni ai giornalisti del Daily Mirror in Inghilterra? Guarda, per quanto sia stato un insulto grave, mi sembra un tantino esagerato. Lo so, eppure da quelle parti la legge è così e il povero scrittore non la conosceva nemmeno a quanto pare la legge. Ora chiede di potersi scusare e di uscire di prigione dove si sta ammalando di tubercolosi. È stato arrestato domenica mentre stava ripartendo. Ecco, ma poi che cosa ha detto di tanto grave? Detto niente, ha scritto in un passaggio del suo libro, ha insinuato che è in uso tra i reali tailandesi avere molte concubine e molte mogli per divertirsi. Tutto qua? Taci, che se ti sentono poi quando passiamo da Bangkok la prossima volta arrestano pure te. E comunque pare di sì. Nicolaides si è difeso dicendo che la frase non era rivolta alla vera corona tailandese, ma che si trattava di fiction, insomma un'opera di immaginazione. E questo l'hanno considerato un atto di lesa maestà? Così pare. Comunque il povero scrittore adesso rischia grosso. Gli hanno persino rifiutato la libertà su cauzione. Devono averlo preso per un rivoltoso con quello che sta succedendo in questi giorni in Thailandia. Speriamo comunque che lo lasciano uscire. Dai, scusa Cristina, mi permetti di dare un consiglio a una persona di nostra conoscenza italica? Quale persona? Umberto Bossi. Umberto, ti prego. Umberto, non andare in Thailandia. Qualcuno invece magari gli vorrebbe dare il consiglio opposto, cioè di andarci in Thailandia a proposito di reato di lesa maestà. Vabbè, salutiamo che è meglio. Ecco, a risentirci, a presto su Radio e Blog Australia. Deve essere per maloso questo re tailandese. Ma forse ha capito male. Ciao. Ciao.